Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La tragica notizia è appena arrivata in redazione. Tutti sconvolti, Massimo Cotto, stimato conduttore radiofonico e critico musicale, è morto all'età di 62 anni. L'annuncio è stato dato su Instagram dalla moglie, Chiara Buratti. Nato ad Asti il 20 maggio 1962, Cotto iniziò la sua carriera in una radio privata prima di passare a Radio Rai, dove ha condotto eventi e programmi come sette edizioni di Stereonotte. Tra il 1999 e il 2003, ha ricoperto il ruolo di responsabile musicale di Rai Radio 1, per poi lavorare a Radio 24 e, dal 2012, a Virgin Radio. Oltre al lavoro radiofonico, ha avuto una carriera significativa anche in televisione, teatro e come giornalista. Scriveva dal 1984 per la rivista Il Mucchio Selvaggio e altre pubblicazioni, sia italiane che internazionali. Tra i suoi lavori si annoverano biografie e interviste pubblicate in diversi libri, incluso il grande libro del rock.